Perché quel punteggio? No, no, Tess. Non di nuovo. Domando scusa? Il punteggio è di Kyra. Perché è così basso? Se proprio vuoi saperlo, Kyra ha saltato una mossa obbligatoria, quindi ha detratto un punto intero. Questo non è giusto. Abbiamo fatto tutti la medesima coreografia. Scarlett e io non abbiamo perso nessun punto. Stai suggerendo che dovreste? No! Abbiamo creato la coreografia in modo che tutti gli elementi obbligatorici fossero. Non è possibile che possa esserle sfuggito? A me è sfuggito? È possibile che tu abbia saltato la mossa o quantomeno che l'hai cambiata tanto da renderla irriconoscibile? Sei tu quella con il ginocchio leso? Tess, cosa succede? Le tue ginnaste ancora una volta stanno insinuando che i giudici sono incapaci di fare il proprio lavoro. Speravo che questa abitudine fosse scoraggiata dalla loro coach a un livello elite. Proprio lì è la mossa che non ha visto. Mi scusi, Gabby. Ho riguardato il video e Kaira ha fatto di sicuro tutte le mosse. Se potesse dargli un'occhiata... Non so se non stavi ascoltando o se l'hai soltanto dimenticato. Ma se chiedete una revisione, c'è una tariffa di 500 dollari. Quindi salvo che una di voi non sia disposta a pagare, suggerisco di concludere la gara. Ma è ingiusto! Deci! 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 Deci!